Buonasera, per vedere che cosa c'è nuova e cosa c'è nel decidere, la vera alternativa a Toscana, a Livorno, nel nostro paese ma soprattutto in Europa, la vera alternativa a Ursula von der Leyen, a una convenzione europea che ha combinato soltanto i disastri in questi anni, che ha ammazzato la nostra economia, che ha ammazzato le nostre imprese, che ha fatto sì che gli istituti licenziassero milioni di posti di lavoro. L'alternativa c'è, una alternativa in nome della libertà e questa libertà...